Sono Gabriele Finardi, mi trovo nella National Gallery a Londra. Siamo alla vigilia dell'inaugurazione della mostra su San Francesco d'Assisi, una mostra che stiamo preparando da diversi anni, che celebra l'importanza di San Francesco per la storia dell'arte, ma vuole anche dare l'immagine di Francesco come una figura importante anche per i nostri tempi. Siamo molto grati al Sacro Convento per il prestito di alcune opere importantissime, come questa pala d'altare che si vede dietro di me dal Museo del Sacro Convento e altri oggetti che sono procedenti dal Sacro Convento. Abbiamo avuto l'appoggio del Comune di Assisi, della Sindaco Proietti, della Forziuncola e di tante altre istituzioni assisane e italiane. La mostra si inaugura il 3, apre al pubblico il 6 maggio, con una sessantina di opere che raccontano la storia di Francesco dagli inizi, dalle primissime immagini prodotte in Umbria, fino alle opere prodotte in nostri tempi, da artisti come Giuseppe Penone, come Richard Long e Anthony Gomli, passando per Murillo, Caravaggio e Zurbaran. Francesco ha affascinato gli artisti sin dall'inizio e attraverso la mostra vogliamo che si celebri questa figura, così importante devo dire anche per la nostra galleria. Ci sono tante opere nella collezione della National Gallery che hanno la presenza di San Francesco. La mostra sarà aperta fino a luglio, fine luglio, e spero tanto che tanti assisani potranno visitare e celebrare con noi il grande santo di Assisi, San Francesco.